I commenti di Sergio Leone durante i provini erano qualcosa di esilarante, è una cosa raccontata da Sergio Donati però, questa cosa mi ha fatto tanto ridere, aspettavano con ansia l'arrivo di Henry Fonda per c'era una volta il West, finalmente arriva Henry Fonda con un taxi, stavano affacciati al balcone di Cinecittà, Donati e Leone, a un certo punto dal taxi esce un vecchietto, piccolo così, però era in rifonda, Leone cinico e sorgnone lo guarda e fa, ma che ci fanno con questo? La Donati disse, è rifonda, ma no vedi che miseria, poi improvvisamente per miracolo andarono in sartoria, e misero gli stivali, quei tacchi più alti, misero la camicia scura, il cappello scuro, una cosa c'è, improvvisamente e rifonda, ridiventò e rifonda, non era più quel vecchietto un po' sciancato che era uscito dal taxi, e disse, se me regge va bene così, se me regge, che c'era paura che si disarticolasse durante il film, quante cose divertenti.